Ieri sera a Mascali, Consiglio Comunale straordinario sul vile atto intimidatorio nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Priolo. Il Consiglio è stato richiesto dai consiglieri comunali Paolo Verzi, Laura Di Bella, Valentina Gullotta, Giuseppe Vitale, Gaetano Portogallo e Alberto Gardillo, ritenendo che esso è la sede istituzionale deputata all'affermazione della legalità e della democrazia. Solidarietà personale e politica espressa al Presidente Priolo da maggioranza e minoranza. I consiglieri di opposizione Carmelo Caltabiano, Ernesto Periti, Orazio Mangone, Emanuele Nigri, Emanuele Privitera, Grazia Carota, Rosario Di Maura e Veronica Musumeci hanno sottoscritto e presentato una dichiarazione nella quale si legge. Il vile gesto perpetrato dai gnoti nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Priolo lo condanniamo senza sé e senza ma. Continueremo a svolgere il nostro ruolo di consiglieri comunali in piena libertà e sempre scevri da condizionamenti esterni, comportandoci sempre secondo scienza e coscienza. Mai e poi mai un vile gesto come quello perpetrato nei confronti di Giuseppe Priolo potrà modificare il libero convincimento di ognuno di noi, perché se ciò accadesse avremmo già perso tutti, avremmo perso la libertà, avremmo perso la democrazia. Dichiariamo altresì di rinunciare al gettone di presenza della seduta odierna, lasciando la relativa risorsa nella disponibilità del Comune, non volendo quindi contribuire al deficit con inutili spese dovute a sedute di Consiglio Comunale che non hanno all'ordine del giorno questione attinenti al funzionamento del Comune. E l'assessore Alberto Cardillo ha commentato il Consiglio straordinario di ieri sera così. È stato un momento importante, perché nel momento in cui abbiamo deciso di convocare questo Consiglio straordinario è stato rimarcato il ruolo del Consiglio Comunale come rappresentante di una comunità che vuole liberarsi da alcuni fenomeni criminosi che hanno anche interessato il passato di questa comunità. Siccome la stragrande maggioranza dei maschilesi è fatta dicendo però, se per bene che la mattina si alza una saracinesca e va a lavorare ed è totalmente avvilita nell'assistere a questi fenomeni, poi che si tratti di fenomeni di delinquenza comune o che ci siano altri legami questo sta agli organi inquirendi accertarlo e per quello di nostra parte collaboreremo sempre con la magistratura e con le forze dell'ordine nella ricerca della verità. Certo è che Mascali vuole assolutamente liberarsi di questi fenomeni lo ha dimostrato nelle elezioni del 2015 c'è una nuova classe politica che con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi errori certamente ha il merito di essere impermeabile a qualsiasi fenomeno criminoso di qualsiasi natura e questo è l'intitolazione della sala consigliare dell'anno scorso a Falcone Borsellino la presenza del Presidente della Commissione Antimafia Musumeci dell'epoca la presenza del Procuratore di Catania e di tutte le forze dell'ordine è stato un momento, se vogliamo, solenne che ha certificato questo ma anche l'azione seguente, al di là delle divisioni di maggioranza e opposizione ecco perché la risposta deve essere doppia ieri abbiamo espresso naturalmente solidarietà al Presidente del Consiglio certo, questo lo dico come nota, se vogliamo, anche personale ma sempre di carattere politico mi sarei aspettato più partecipazione anche popolare a questo momento del Consiglio Comunale ma oltre alla solidarietà la risposta deve essere doppia perché sì è vero il controllo e la repressione sono una parte importante per sconvincere la criminalità ma dal nostro punto di vista anche la risposta culturale è importantissima presentata ed approvata una mozione dai consiglieri di maggioranza avente come oggetto la promozione delle attività culturali sul tema della legalità come strumento attivo di contrasto all'anticultura di eventi criminosi c'è appunto l'invito a continuare nella strada di promuovere attività culturali espressamente legate alla legalità come quella che terremo giorno 30 infatti colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini interessati giorno 30 alle ore 11 avremo l'onore di avere l'onorevole Salvo Andò terremo una conferenza alla quale parteciperanno anche i ragazzi delle scuole di Mascali infatti sull'operazione Vespri Siciliani la più grande operazione di saturazione militare del territorio proprio per combattere sul proprio terreno la mafia quindi è la più grande risposta in forza che ha dato lo Stato contro la mafia